Nei prodotti di Lush ci sono dei messaggi segreti. Dobbiamo per forza verificare, altrimenti non sto bene, non posso vivere la mia giornata. Io amo Lush e fortunatamente ho qui con me alcuni prodottini. Vediamo un po' se è vera questa cosa dei messaggi segreti. Iniziamo con uno dei miei spray corpo preferiti, l'Ed Good Time Swords. E la ragazza si trova su questo sticker qui per intenderci il bollino dove c'è scritto il nome di chi ha preparato il vostro prodottino. Vado a tirare su. Oh, se è vero. Ragazzi, intravedo una scritta. Abbiamo il nostro messaggio segreto. Stiamo bene insieme. Che cute. Così forse vedete meglio. Ho sollevato il bollino e qua c'è scritto, scusate ma mi sono fatta la tinta, le sopracciglia non è andato via. Comunque stiamo bene insieme. Troppo cute. Sono soddisfatta da questo messaggio, vediamo gli altri. Il secondo prodottino che verifichiamo è il Super Milk di Lush. E anche lui ha il suo bollino. Ok, vediamo un po'. Sì, ecco qui, c'è scritto balsamo, idratante, no, Super Milk. Questo mi sembra più un messaggio promozionale in realtà. Eccolo qui. Balsamo, idratante, no, Super Milk. Infine ho anche questi due prodottini labbra, il Labra Cadabra e lo Snow Fairy. E anche qui sembra esserci il nostro messaggio segreto. Quindi ora vado a sollevare le etichette e vediamo cosa c'è scritto. Allora, essendo prodottini labbra, devo dire che ho grandi aspettative. Qualcosa sui baci, qualcosa dolce. Cioè, vediamo un pochino. Oh, non c'è scritto niente qua. Raga, sono delusa. Igor, mi hai deluso. Si chiama Igor il tipo che me l'ha fatto. No, volevo il mio messaggio super dolce. Vediamo se nell'altro c'è. Questo qua, lo Snow Fairy, è più recente. Quindi ho più aspettative. Ed è stato fatto da Mirjana. Quindi vediamo un po' se Mirjana ci ha lasciato un messaggio al bacio. No! Quindi solamente nei prodotti più grandi, probabilmente, e in questi nulla. Non lo so. Io delusa.